Non solo auto, secondo il rapporto Svimez, al boom del 2015, quando il PIL della Basilicata è balzato del 5,5%, oltre alle esportazioni dell'FCA di Melfi, hanno contribuito anche gli investimenti nel settore agricolo, con un più 9% circa. Aumentati rispetto alla media nazionale e del meridione, anche i consumi interni, saliti dell'1%, riviste a rialzo le stime di crescita per il 2016 e il 2017. Manifestazione.